Nel 1931 accade un evenimento molto importante. Il presidente degli Stati Uniti, Hoover, decide di mandare in Europa un certo personaggio, un certo McFadden, perché visitasse i paesi dell'Europa per vedere cosa gli stessi facessero per la loro gioventù. Gira tutta l'Europa, giunge anche in Italia e ovviamente incontra il presidente dell'Opera Nazionale Banilla, Renato Ricci. Renato Ricci lo porta in giro per l'Italia per far vedere cosa si faceva per i giovani. Ultima tappa è l'Accademia della Farnesina di Roma. McFadden resta veramente stupito di quello che ha potuto vedere e decide di voler dare una mano a questi giovani. Quindi offre a Renato Ricci di ospitare 50 giovani presso le sue strutture americane. Lui era un po' il profeta del culturismo in America, era proprietario di grandi istituzioni ginnastiche, di giornali e quant'altro. Renato Ricci ha ottenuto il permesso dal Duce, fa una selezione e seleziona i 40 migliori studenti dell'Accademia e li manda in America. Resteranno in America per quasi sei mesi. Furono accorti con grandi onori, vennero ricevuti dal sindaco di New York, ma non solo, anche dal presidente degli Stati Uniti. Durante l'incontro con gli studenti dei presidenti degli Stati Uniti, McFadden disse al presidente, guardi che sto insegnando loro il baseball. E allora il presidente con una battuta disse, allora vorrà dire che un giorno vedremo alle World Series l'Italia contro una squadra americana. Beh, quando è nato il WBC probabilmente qualche cosa del genere è effettivamente accaduto. Mentre questi studenti erano negli Stati Uniti, due squadre dell'Accademia della Farnesina giocavano a Sanremo, presso una grande adunata dei giovani avanguardisti, giocavano una partita di baseball. Questo a dimostrare che in realtà il baseball in Italia lo si stava già giocando da tempo.